Ciao ragazzi, oggi sarà questo il mio primo video, è la presentazione del canale in questo canale porterò sia Rainbow che Fortnite ci sarà una intro in cui vi farò vedere o alla fine o dopo prima di farvi vedere una cosa vi volevo far vedere che sono livello 77 visto che avete visto e ho un po' di personaggi perché ho scippato un po' gogo però diciamo che volevo fare questo video per presentare il mio canale che ci sarà ogni sera la live e ogni lunedì, mercoledì e venerdì video editati, montati, tutti belli come speriamo che vi piace i video inizieranno venerdì visto che le live inizieranno stasera stasera alle 9.30, 20 o 9 in punto ci saranno le live e io ho ore e mezzo, mettetevi la sveglia scusate se avete letto io, forse non l'avete manco letto, ci saranno la sveglia mettetevi la sveglia così vi vedrete la mia live quando vi iscriverete, io spero che questa presentazione vi sia piaciuta aspetta, prima di tutto vi faccio vedere l'intro vai bene ragazzi mi sono dimenticato di vivere nella cosa personalizzata che è di iscriversi al canale di DarkDanny09 e tutto questo, ciao ciao